jessica sbotta nella sala beauty con alessandro e lucrezia perché jessica non è d'accordo con il modo di fare di sophie infatti la stessa aveva promesso di lavare i piatti e successivamente non lo ha fatto perché troverebbe sempre una scusa per rimandare e alla fine non lavarli per questo jessica si infuria dicendo non mi calmo perché quando sophie non fa qualcosa viene difesa da tutti anche da alessandro mentre se sbaglia qualcosa lucrezia le vanno tutti contro e non è giusto non giustificatela perché mi arrabbio ancora di più jessica ce l'ha con sophie le ha sempre puntato il dito contro in qualsiasi occasione la punzecchia per ogni cosa specialmente facendo battute su alessandro canale youtube fabio pecce